Questo sistema, io lo dico senza tema, credo, di smentita, è andato alla deriva da partire dagli anni 70-80, proprio perché non è stata governata la sua espansione. Non è tanto l'autonomia, mancanza e responsabilità, Ruberti, che credo conoscessimo tutti, lo sapeva, lo diceva, ho sbagliato, non ho finito la riforma. Sono aumentate le università, sono decuplicati i docenti a un certo punto, grosso modo.